Perchè questa splendida idea? Come ti è venuta questa idea? L'amico Franz qualche giorno fa scrive Martedì Olivero cosa facciamo? Sì o bici io dico entrambi Cosa facciamo? Sella ronda In un giorno? Hai messo la crema solana? No dovevo Arriviamo Rossi Però partendo da Badia dobbiamo sempre prendere un po' di rincorsa Quindi saliamo al Santa Croce Prima pista fatta con le lacrime Allora il programma è questo Se la ronda in senso orario Con gc E in senso orario in bici Perchè? Senso orario con gc Ci sono meno impianti Siamo più veloci Senso orario in bici Ci risformiamo il Passo Gardena all'inizio Allora 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 In bici E avanti Allora 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 Eccoci di ritorno a Corvara, ancora un salto verso Casa Badia e poi fra poco faticheremo su questi tornanti. Ritorno all'ovile, se la ronda da Badia a Badia, non so se si vede, si vede, 3 ore e 34 minuti. Saremo più veloci in bici o coglirsi? Si vedrà. Ora andiamo in zona cambio, adopo Franz? Adopo! Ciao! Ciao! Saremo un panino di aspetto formaggio. Aspetto formaggio? Si, bianco, senza... Pane bianco? Si, pane bianco, solo aspetto formaggio. Ok, grazie. Saremo più cinque. Aspettiamo Franz. Saremo più cinque. Aspettiamo Franz. inayı di qua. Aspettiamo. Allora, how è? manaccio uffa alza Igor vai dai un passo Igor col fiatone e ora il pordoio sto parlando da solo non mi aspetta mica quel magrolino là seconda salita bei muri di neve ancora i neve ce nè messaggio promozionale dove si dedichi la zaborna per mezzaroiti muro duro muro duro terzo passo passosella odioso stupendo stupendo guardate che panorama altro che odioso troppo acidulatico vedo tutto bianco Franz 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 i boccettini i boccettini quelli lunghi quelli lunghi sono a zero gradi e siamo su passosella ah no più uno più uno passo sella è anche una macchina bene no quarto passo 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 Gardena ultimo Igor ha una fame da lupo solo Ricky trova forse grinta volontà allora non più sella l'onda prima con gli sci e dopo i due sci fatto bravo vediamo